Una bella iniziativa che il comune di Pineto ha realizzato, il social market La Formica. Come sta andando? Sta andando molto bene, siamo al quarto mese, molto bene. Oggi dire che abbiamo quasi 100 famiglie che beneficiano di questo servizio, da una parte ovviamente non ci rende allegri sicuramente, perché significa che c'è un momento di estrema difficoltà. Dall'altra siamo soddisfatti perché siamo riusciti ad offrire un servizio, un servizio che si rivolge a delle famiglie che attraversano un momento di difficoltà. E' un supermercato, come si è detto in occasione dell'inaugurazione sociale, di iniziativa pubblica. Quindi ecco, questa è una particolarità. Ci sono tantissime esperienze bellissime in Italia che portano avanti associazioni, Caritas. Questa parte dal comune vede la partecipazione di numerosi partner, quindi dal Banco Alimentare a Caritas, Lions Club, Conad, Pros. Quindi davvero sono tante le aziende che proprio nelle ultime settimane stanno aderendo per contribuire al rifornimento di questo social market. All'interno di questo social market in realtà non circola denaro, quindi in realtà ci sono delle card prepagate, card prepagate che vengono rilasciate in seguito di una partecipazione, una richiesta. C'è un bando aperto che è pubblicato sul sito del comune di Pineto e che è ancora aperto e che consente a famiglie che hanno particolari requisiti richiesti dal bando di usufruirne. Qual è il valore sociale e morale del social market La Formica? Sicuramente con i tempi che corrono, le difficoltà economiche che attraversiamo, ecco è tutta tanta gente che chiede di poter soddisfare le necessità di ogni giorno, ecco è un aiuto grande sicuramente. Poi la formula dà una certa dignità anche al modo in cui viene dato l'aiuto, ecco conferendo quel buono, col quale ognuno può decidere anche le cose da prendere, ecco è sicuramente anche un modo per dare dignità all'aiuto che si offre. Quindi sicuramente noi abbiamo già la carità sparrocchiale che distribuisce ogni 15 giorni i pacchi, però le necessità sono tante, per cui più ce ne sono di queste iniziative sicuramente meglio è. In questo momento sono molte le famiglie in difficoltà nel comune di Pineto? Sì, sicuramente. Mentre all'inizio quando abbiamo iniziato la carità si erano soprattutto gli extracomunitari, adesso purtroppo ci sono anche tante famiglie della zona che ricorrono alla Caritas, al social market, per avere il necessario per vivere veramente.